Partita Gagliarda che ha onorato le virtù agonistiche di Taranto e Varese, l'incontro che nella prima mezz'ora non ha riservato emozioni, si è vivacizzato al 33esimo quando il Taranto è passato in vantaggio. L'azione è partita da Mutti che ha crossato al centro, sulla palla si è trovato Fabri che nonostante il rigido controllo dei difensori avversari ha realizzato. Nella ripresa dopo un minuto il Varese è pervenuto al pareggio, rapsodia di errori della difesa pugliese, palla Salvadecchi ha tirato. Sulla respinta di Ciappi, Tommasoni ha segnato. Il Taranto è rimasto scioccato ed il Varese ha raddoppiato al 13esimo con un'azione analoga alla precedente. Su di una poderosa conclusione di Di Giovanni, respinta da Ciappi, Braghin è intervenuto ed ha siglato il 2-1. Si è avuta la sensazione che per il Taranto la gara fosse diventata difficile, ma ha avuto un impennato d'orgoglio ed ha ribaltato il risultato in tre minuti. Al 17esimo ha pareggiato con un colpo di testa di Cannata su angolo di Pavone, dal 20esimo è passato in vantaggio su rigore concesso per fallo di Arrighi su Fabri. È stato lo stesso Fabri a realizzare. Il Varese ha avuto l'occasione di riequilibrare l'incontro a sei minuti dalla fine, ma Tomasoni ha calciato fuori da buona posizione.